Vediamo se Marta, questo fuori classe svizzera, riesce a scalzare dal podio un Gabriel De Koster. Eh, ma troppo indeciso sulla 17, troppo indeciso sulla 17, ha perso sicuramente qualche decimo con quella indecisione. Attenzione verso la 20, anche qua non è precisissimo. L'atleta svizzero verso la 21, la 22, non ce la fa, non ce la fa a vincere. Allora è l'atleta belga, Gabriel De Koster, meritatissimo, davanti a Martina Schrabot.